buona giornata amici da massimo foghetti oggi è martedì 22 novembre 2022 bentrovati alla rassegna stampa di fano tv vediamo insieme i giornali questa mattina le notizie che sono riportate per quanto riguarda quanto è avvenuto nella giornata di ieri passiamo come sempre attraverso l'almanacco e oggi si festeggia una santa particolare una santa molto nota santa cecilia innanzitutto facciamo gli auguri a tutte a tutti coloro che portano questo bel nome santa cecilia una delle più note martiri dell'inizio del cristianesimo visse nel secondo secolo sotto l'imperatore marca aurelio scoperta cristiana fu condannata a morire per soffocamento ma non morì allora l'imperatore diede ordine di decapitarla purtroppo il carnefice non era molto esperto e ci vollero tre colpi di spada per staccarne la testa ma cecilia non morì ugualmente purtroppo visse tre giorni con una agonia molto molto dolorosa e poi quindi mi respirò bellissima la statua di stefano moderno che ritrae santa cecilia che ritrae il corpo di santa cecilia così come è stato ritrovato nelle catacombe di san callisto a roma ora si trova nella chiesa di santa cecilia in trastrevere costruita sulla sua casa santa cecilia come è noto e patrona dei musicisti e proprio domenica scorsa a fano si è svolto un grande concerto in occasione della sua festività in cui è stata ricordata anche anastasia la 23enne ucraina che è stata uccisa dal marito per dissidi familiari una tragedia che ha colpito tutta la città ed ora diamo un'occhiata invece alle previsioni del tempo le previsioni del tempo vedono oggi una giornata di pioggia già questa mattina pioveva sul marche nord cieli molto nuvolosi o coperti con piogge rovesci anche temporaleschi su tutta la regione in serata questi fenomeni dovrebbero attenuarsi sono previsti 24 mm di pioggia i venti sono forti il mare è molto mosso e le temperature oscillano tra i 9 e i 12 gradi questa appunto la situazione odierla ed ora vediamo anche un'immagine per semplificare quanto abbiamo detto è il pincio di fano la porta più importante della città il cielo è nuvoloso il terreno è bagnato il traffico ancora è scarso ma tra poco appunto anche a causa della pioggia si incentiverà in modo particolare e saranno molti coloro che andranno a scuola oppure al lavoro in auto a questo punto diamo un'occhiata ai giornali apriamo la pagina sul corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo i risvolti di questa tragedia che da diversi giorni sta emozionando la città di fano avere l'affidamento del piccolo è questo il più grande desiderio della mamma e della sorella di anastasia alashri e le due donne sono venute a fano dalla ucraina e appunto stanno svolgendo le pratiche per avere in custodia il bambino un bambino di due anni e mezzo i legali hanno presentato ieri l'istanza di affidamento al tribunale dei minorenni si sono rivolte all'avvocatessa roberta giuliacci del foro di pesaro e al legale pietro marinucci del foro di roma per farlo la questione dell'affido poi è direttamente seguita dal console onorario alle opoli gianluca sardelli sardelli che si è interessato sin da subito al fine di garantire la piena tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte e per quanto riguarda il corpo della povera anastasia vediamo che l'autopsia si fa non si farà prima di venerdì prossimo vanno infatti prima espletate tutte le pratiche di traduzione degli atti in ucraino e in arabo per il via libera in arabo perché appunto il marito l'assassino e il egiziano l'obiettivo della famiglia è comunque quello di rimpatriare la salma di anastasia e in ucraina quanto prima tramite gli avvocati mamma e sorella vogliono nominare un consulente di parte un medico legale il marito 42enne amrallah mustafa alashri di nazionalità egiziana è ora in carcere in attesa appunto degli sviluppi giudiziari intanto a fano si raccolgono le candele da inviare in ucraina anche le candele che sono state usate durante durante la fiaccolata che si è svolta domenica scorsa sono state consegnate appunto all'associazione ucraina della città di fano che poi le fonderà e le trasferirà nel loro nel proprio paese dove appunto manca anche l'elettricità manca il riscaldamento perché sono state interrotte l'erogazione sia dell'energia elettrica che del gas ed ora passiamo invece all'altra notizia che die che tiene desta che tiene desto il mondo politico di fano perdere 20 milioni 20 milioni è una cifra veramente molto molto importante fano non ha mai avuto da enti superiori una cifra tale aveva una buona occasione per sfruttarli e beh non c'è riuscito e quindi questi 20 milioni questo tesoretto ma chiamarlo tesoretto è del poco ora svanisce perdere 20 milioni e gravissimo insorgono così le minoranze che ieri hanno tenuto una conferenza stampa divisa e diciamo così però è il tema è sempre quello ovvero le dimissioni del sindaco e le dimissioni della giunta bocciata all'interquartieri la richiesta di tutte le opposizioni divisioni anche nell'interno del partito democratico perdere 20 milioni è gravissimo per il segretario della lega alessandro brandoni la responsabilità di quanto avvenuto non deve essere attribuita a un uomo solo bensì è una responsabilità collettiva che coinvolge il sindaco e la giunta e tutta la maggioranza che la sostiene ha dichiarato brandoni ci sono anche poi dichiarazioni del capogruppo della lega gianluca ilari che ha individuato nella coltivazione di diversi interessi e opinioni e quindi contrasti all'interno della coalizione di governo la ragione della del debacle di questo progetto sono intervenuti poi anche fratelli d'italia con lucia tarsi e con la segretaria politica loretta manocchi e intanto poi in un'altra occasione sono intervenuti cinque stelle con il gruppo consigliare formato da tommaso mazzanti francesco panaroni e giovanni fontana invece di insistere nella ultimazione dell'interquartieri verso gimarra detto mazzanti sarebbe stato meglio che si fossero impiegati quelle risorse per collegare una nuova arteria complanare il territorio del sud di fano con il casellino di fenile questa era un po' la dritta che aveva dato il movimento cinque stelle comunque non è stato ascoltato ed ora vediamo che poi l'amministrazione comunale cercherà di fare di tutto per recuperare questi soldi in un modo o nell'altro ma sarà molto difficile che ci riesca qui invece abbiamo una presa di posizione di lupus in fabola degli ambientalisti che recriminano sul fatto che il censimento del verde che doveva essere fatto su tutto il territorio comunale con dei sistemi tecnologici particolarmente avanzati dovevano essere impiegati dei droni addirittura che facevano delle immagini ebbene dopo tanti mesi da aprile non non si è verificato nulla ecco perché la lupus denuncia l'immobilismo della giunta anche su questo progetto esa che doveva certificare pianta per pianta il suo stato come è stata potata se era sana o non sana e via dicendo era veramente un monitoraggio molto molto analitico e poi in questo articolino di fondo pagina qui abbiamo un una notizia di cronaca sei l'amante di mia moglie un 74enne fanese accusato di stalking credeva che un un giovane fosse l'amante della moglie e quindi lo ha perseguitato con messaggi con minacce insomma secondo quanto si ricava da questo articolo avrebbe veramente torturato con uno stalking insistente per questo ieri è andato a un tribunale ed è accusato di stalking e lesioni aggravate addirittura sembra che gli abbia messo le mani addosso per l'imputato era anche scattata la misura del divieto di avvicinamento alla vittima ieri l'udienza del giudice monocratico si chiusa con un rinvio e quindi la sentenza deve essere ancora pronunciata raide della puglia per rubare auto sgominato un comando da 5 euro ebbene avevano messo a suo quadro un po il parco automobilistico della città di fano smontavano i pezzi delle auto che rubavano questa banda è stata sgominata dagli uomini del commissariato appunto della nostra città uno era già in carcere altri quattro sono stati arrestati dalla polizia le vetture venivano vendute in pezzi agli arresti domiciliari quattro pugliesi accusati di aver rubato due automobili una al vallato e un'altra nel quartiere di san lazzaro i poliziotti in servizio a fano hanno eseguito l'ordinanza emessa dal giudice giacomo gasparini che ha disposto la misura cautelare collaborando con i colleghi della squadra mobile di pesaro e del commissariato di cerignola appunto in puglia e per fortuna questa banda è stata sgominata a mondolfo invece si pensa al natale il vero lavoro di squadra farà bello il nostro natale ha detto il sindaco barbieri il quale ha presentato gli eventi a partire dal 3 dicembre e sono coinvolte anche molte attività associative lo dice appunto il titolo il sipario si alzerà a mondolfo il 3 dicembre nella chiesa di sant'agostino con la versione invernale della rassegna letteraria come un libro aperto e poi roberto mercadini presenterà il libro l'ingegno e le tenebre e con il natale più bello nel borgo più bello curato dalle proloco di tre colli poi il 4 l'11 e il 18 torneranno i birrocini di natale e i mercatini queste sono solo l'inizio delle manifestazioni che si svolgeranno a mondolfo appunto tra mercatini tradizione arte cultura solidarietà sono tante e variegate le iniziative promosse dall'amministrazione comunale ogni centro cerca di rendere più bella l'atmosfera del suo natale perché se non c'è questa veramente c'è da piangere in una maniera sconsolata l'omaggio di scansi al mondolfese onorario ebbene chi è il mondolfese onorario non può essere che francesco guccini la star del web a pranzo con guccini e sua moglie incontrarlo è una gioia ha detto scansi giriamo pagina e siamo a Senigallia a Senigallia è stato individuato quel pirata della strada che ha trascinato in un drammatico incidente stradale una donna investita per 7 chilometri davanti al suo SUV investita e trascinata preso il pirata nessun pentimento ma resta libero si tratta di un 61enne dell'interland Iesino che davanti alla polizia ha fatto scena muta ed è stato denunciato mentre cercavano di interrogarlo gli inquirenti lui non ha proferito parola quindi veramente è una situazione da sondare è un mistero da riuscire a sciogliere quello che ha reso questo incidente così drammatico e poi vediamo il maltempo perché il maltempo è molto critico in modo particolare per Senigallia che per quanto riguarda le turbazioni atmosferiche ne ha viste veramente di tutti i colori c'è l'ennesima allerta meteo scuole chiuse olivetti il sindaco non potevo decidere in extremis e quindi il sindaco ha deciso già da ieri che oggi le scuole a Senigallia sarebbero state chiuse le ore più critiche sono stanno trascorrendo sono quelle dalle 4 alle 8 del mattino i genitori avevano bisogno ha detto il sindaco del giusto preavviso quindi scuole chiuse oggi a Senigallia come stabilito ieri pomeriggio dal sindaco in considerazione dell'ultima allerta meteo e dopo quello che è avvenuto a Senigallia insomma stare dalla parte del formaggio è più opportuno anche se le scuole chiuse creeranno un po' di disagio alle famiglie specialmente quelle i cui genitori lavorano entrambi e quindi i bambini hanno bisogno di una sistemazione di fortuna. Le luminarie di Natale si accenderanno a Senigallia il 2 dicembre niente video mapping ma un'immagine fissa sul palazzo del Duga non ci sarà un video mapping ma ci sarà appunto un'immagine fissa che illuminerà questa residenza storica. Diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi dove si parla di Pontevalle non vedo più l'immagine ma spero che la vediamo qua Pontevalle è un punto critico della viabilità pesarese qui sono accaduti gravi incidenti incidenti anche mortali ora si dice basta morti fermeremo chi corre come un pazzo lo ha detto l'assessore Belloni anche domenica pomeriggio purtroppo si è verificato l'ennesimo incidente stradale nel bivio con la strada di Tresole questa volta miracolosamente senza feriti e senza gravi conseguenze però insomma la situazione non può continuare perché veramente c'è un pericolo oggettivo un pericolo insistente e quindi l'assessore Belloni annuncia provvedimenti che dovrebbero regolare il traffico in maniera più sicura e intanto nei bar si raccolgono firme la strada non può essere come un autodromo i residenti di Pontevalle e Santa Meneranda vogliono incontrare il comune comunque provvedimenti si stanno facendo le verifiche per il terremoto non si fermano più sono molte le case che vengono considerate inagibili per i danni che sono stati procurati dalle scosse della settimana scorsa le verifiche non si fermano più dai condomini solleciti non stop anche ieri decine dei sopralluoghi dei vigili del fuoco di Pesaro hanno individuato situazioni emergenziali inagibile uno stabile che ospita addirittura anche un asilo privato nei prossimi giorni sarà messa in sicurezza un'abitazione di via Varese in centro storico che è stata lesionata e poi anche inagibile un immobile lungo l'Adriatica che ospita un asilo privato sono state circa 50 le richieste arrivate ieri alla sala operativa dei vigili del fuoco e sono 27 le verifiche di staticità di palazzi o abitazioni private la maggior parte in centro storico sono queste le indagini che sono state portate a termine vediamo qui anche un aggiornamento sullo stato della ristrutturazione dell'ex intendenza di finanza a Pesaro è stata trovata l'impresa ora si corre per aprire il cantiere questo è un progetto che langue da diverso tempo candela candelara e uno rimane un po' meravigliato della grande fortuna che ha assistito questa questa impresa questo questo evento accendere delle candele sembra un atto così normale ma in realtà è diventato un atto così suggestivo da attirare gente da tutta Italia infatti sono previste 40 mila presenze totali quest'anno a candelara perché sono stati poi eliminate tutti i divieti tutti i limiti che erano stati imposti a causa del lockdown per quanto riguarda poi la pandemia eccetera e già sono stati prenotati 170 pullman arriveranno anche turisti addirittura da Filadelfia veramente è un successo mondiale quello delle candele a candelara e una delle curiosità che riguardano le dizioni in arrivo sarà appunto la visita di una settantina di statunitensi provenienti da Filadelfia che ceneranno nel borgo delle colline pesaresi sanità sitine davanti all'ospedale per i precari oggi il primo dei tre presidi programmati dai sindacati circa 200 lavoratori non hanno la certezza della proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato quelli che scadono il 31 dicembre prossimo i sindacati chiedono dunque la proroga dei contratti fino a 36 mesi di tutte le figure sanitarie sia quelle tecniche che quelle amministrative è qui una manifestazione per mantenere il proprio posto di lavoro la maxitruffa dei prodotti biologici chieste condanne per quasi un secolo vi ricordate quella maxitruffa di ditte che proclamavano biologici prodotti che biologici non erano si tratta della inchiesta vertical bio 23 sono gli imputati che rischiano pene per 96 anni in totale però insomma incombe la prescrizione perché ci sono reati che risalgono indietro nel tempo per l'accusa si parla di prodotti falsamente certificati come biologici i fatti contestati risalgono dal 2007 al 2013 sono veramente vecchi e dopo due anni di udienze preliminari iniziati nel 2016 sono stati rinviati a giudizio 25 tra imprenditori e certificatori per il reato di associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla frode nell'esercizio del commercio mentre sei aziende del biologico rispondono di illecito amministrativo e qui si va avanti a piccoli passi se non poi arriva la prescrizione a Urbino si parla di turismo press tour per il turismo ducale dedicato ai 600 anni di Federico si tratta di un'iniziativa c'era un fine settimana dedicato al turismo e alla promozione un'iniziativa della Confesercenti e del Comune stesso della città ducale due i momenti che hanno caratterizzato questa iniziativa si parla di un educational che ha permesso a tour operator e rappresentanti dei CRAAL che sono i circoli recreativi e aziendali provenienti da diverse regioni italiane Lombardia, Puglia, Basilicata, Lazio di conoscere la città di Urbino e l'altra iniziativa invece è un forum di approfondimento che ha visto la partecipazione delle istituzioni e dei principali stakeholder pubblici e privati dunque un'iniziativa di carattere promozionale particolarmente importante anche Urbino dice no alla violenza contro le donne in occasione della giornata internazionale che solleva questo tema nella sensibilità di tutti i generi soprattutto gli uomini e in questo caso sono interessati ebbene ci sono tante iniziative tra incontri spettacoli che coinvolgono anche gli studenti per raccontare esperienze Urbino ovviamente coinvolge anche l'università e ora vediamo la pagina del resto del Carlino si apre ovviamente con le polemiche che riguardano la variante di Cimarra qui vediamo quello che avrebbe dovuto essere un rendering di questa arteria che doveva mettere in comunicazione la trave con la statale 16 passando attraverso le colline di Cimarra è un progetto che rimarrà al momento tale sulla carta e non verrà eseguito sfumato il finanziamento per troppo immobilismo si è perso tempo tra le opzioni dirottate su Fano fondi destinati ad altri e quindi questi 20 milioni ritorneranno nelle casse dello Stato e Fano ha perso una grande opportunità e vediamo che a questo momento sembra che ci sia veramente un pericolo incombente per la stabilità della giunta fanese la Mina in modo particolare la capogruppo Agnese Giacomoni del Partito Democratico Fanesi si dimetta subito altrimenti è crisi ha detto la capogruppo ed è il maggior partito di maggioranza che in questo momento è spaccato al suo interno per il sostegno oppure l'avversione contro la permanenza in giunta dell'assessore Fanesi intanto l'opposizione invece non concentra i suoi attacchi su Fanesi ma su tutta la giunta sul sindaco e su tutta la maggioranza i tecnici comunali cercano di trovare un escamotage per salvare un po' la situazione e cercano di preparare una delibera in consiglio che possa salvare capra e cavoli a questo punto il comune pensa di avere di fronte a sé tre soluzioni vediamo quali sono spera che siano concesse ai comuni deroghe nei termini per l'utilizzo delle risorse magari all'interno della finanziaria cosa comunque che sembrano sia possibile per questo progetto l'altra ipotesi è che la regione nello specifico l'assessorato alle infrastrutture sia disponibile ad utilizzare 20 milioni di euro su opere di sua competenza già appaltate girando sull'interquartiere i fondi regionali 20 milioni non più di fondi statali ma fondi regionali ma c'è una terza opzione su cui confida la giunta Seri e cioè che la regione Marche trovi risorse di pari importo per nuove opere ristorando a Fano del mancato finanziamento originario insomma si cerca di trovare un modo per non perdere queste grandi risorse finanziarie per Fano in modo particolare da utilizzare sul fronte della viabilità Seri non può restare sindaco persi i milioni per incapacità è quello che affermano appunto le minoranze le opposizioni all'attacco compreso il Movimento 5 Stelle contento di aver visto affondare l'Interquartieri e ieri abbiamo visto come hanno svolto le loro conferenze stampa appunto esponendo critiche nei confronti della giunta in un da una parte Fratelli d'Italia insieme alla Lega dall'altra invece il Movimento 5 Stelle vediamo le altre notizie rapidamente arrestata la gang delle autorubate quattro in cella partivano da Cerignola di Foggia e colpivano Fano rubando Golf e Polo anche alimentate a metano per poi rivenderne i pezzi e intanto vediamo l'articolo del pensionato che perseguita un ecoetaneo lo credeva l'amante della sua ex l'uomo di 74 anni di Fano è finito sotto processo per il reato di Stolking il suo difensore dice non ho fatto nulla e poi a Mondolfo invece abbiamo dei consuntivi molto soddisfacenti per quanto riguarda le presenze turistiche numeri da record per Mondolfo e Marotta registrato un incremento addirittura del 16% rispetto all'epoca pre-Covid quindi per quanto riguarda il Covid la percentuale aumenta ancora di più per l'assessore Capolaretti è merito anche delle attività di intrattenimento e poi a terre roveresche la giornata contro la violenza sulle donne terre roveresche si tinge di rosso venerdì e 20 dalle 9 del mattino a quelle di sera la marcia sarebbero le 21 la marcia delle scarpe rosse per tenere viva la coscienza collettiva e questa era l'ultima notizia che vi segnalo a questo punto vi saluto vi do appuntamento a domani per le notizie del giorno vi invito a seguire i litigi di Fano TV occhio alla notizia delle ore 20 e 30 e questo è tutto per il momento a risentirci